In un salotto di Parigi ascoltavo questa musica e questa musica per lui evocava tutto questo Ma è un miracolo tutto questo e noi siamo qui adesso, è solo il tempo che passa o siamo al tempo recuperato? Il tempo in cui ero amato, che fino allora aveva pronunciate spesso e senza troppo soffrire Ritrovò tutto ciò che di quella felicità perduta aveva fissato per sempre la volatile essenza Un percoglio con il detto animo questa fanciulla che tu credi mia sposa e il suo fratello perché sono i tuoi e i miei figli uomini Io ho sempre saputo quanto la mia condizione fosse bassa e quanto non si convenisse alla vostra novità E quello che io sono stata con voi so che mi veniva concesso da Dio e da voi Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!